io sono morto ovviamente io proverei qua direi che possiamo atterrare qui anche se non levo land proprio safe è il rischio no? ma se vuoi prova prova non ho un problema vuoi prova prova ma io ci sto ci siamo è una lunga caduta divertente vedo se viene qualcuno con noi sai che non vedo nessuno? vedo tutti a bassa quota infatti si si ma vanno tutti qua vedo uno altissimo là a sinistra guardate di fronte ha andato via no no mi sa che siamo da soli si si meglio raga però occhio probabilmente vengono dopo si si uno caos ticca metta sopra da noi si raga mi sta laggando a me raga caos tic dentro c'è uno ha capito eccolo fatto bella colla non ho colpio raga non ho colpio laggando ma che è ma basta sta cosa di caos tic però in sotto for salute raga se vogliamo potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte qui c'è un caricatore pesante e esteso vado qua giù io guarda vado andiamo tutto dopo la setta un po' lontana eh tanto qua lo lottiamo fast non si capisce niente direi che possiamo andare poi alla cabina chiusa si si come gli siete scout forta come ma è tipo lei in blocco no è sempre automatico è rotto è rotto arrivo madonna ha 20 hp neanche è la sopra è uno eh ho visto uno nera si vedi lì andare avvolta vada gente 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 raga qua perfetto amarti arrivo si si sono proprio sotto si si qui qui è un gip ratter è un gp ok sono quasi sono tre eh occhio a gp è rotto è rotto gp morta bright morti morti vabbè vabbè chi è che ha buttato il granate io io ho sbagliato ok ok morti passi attenzione capsula assistenza in arrivo fatte il rewatch due ma erano due si erano due ok avrete un gp un gp doppio sparo raga gente lì gente sopra il ponte volete fa ho 98 mi rifiutiamo 98 è rotto è rotto morto l'ho cato bravo bravo nulla dietro l'ho neito l'ho neito sia a destra che a sinistra occhio sul ponte mi stanno sparando armor bianca morto morto bravo 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 raga anche sul ponte arrivano arrivano da te nox di autorità dove? dove? dove sta stai via 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 sto creando un tunnel eh ma sa che sono morto raga faccio un portale dove dove dove? vicino a martista umore rilasciato prova a coverarmi prendo il portale raga neidatelo neidatelo mi hanno colpita devo ricaricare il mio vediamo di che pazzano ho l'ultimo è arrivata la kill è rosso è rosso è rosso è rosso è rosso ho l'impatto raga io mi do cura sto ricaricando gli scudi è red è red tutti red arrivo arrivo noccato arrivo noccati due noccati è bianco e guarda è l'ultimo è l'ultimo morto 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 è stato smocca smocca se ce l'hai eh vabbè 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 dai questi erano i peccati ci vedo di nuovo sto ricaricando eh ma non lo possiamo aprire il volt eh mi so vogliamo provare l'altra si fa vicino raga li ho aperti eh vi faccio un kit medico ragazzi vieni via vieni via no no vabbè via io devo fare un kit medico è ma si è iniziata sto ricaricando gli scudi hai in zittà il martin? si eh mettila tipo giù una roba del genere eh mi guardano non riesco a farla è corto uno ho fatto la tipola ho fatto la tipola vai 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 senti dentro eh ti faccio kit medico io vai 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 dietro eh io non ho colpi via block ce ne do un po' io se vuoi ne ho proprio zero che entrano questi raga eh quelli che ti posso da è oro l'ho cancato l'ho cancato è rossa è rossa lo so dobbiamo fuciare ragazzi è roccato bravissima marty va fuciate da lì voi prendo la porta vado dietro viola tutto malissimo datemi una mano raga si è tirotto faccio il giro da dietro è rossa la verità morto è roccata bravi 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 mamma mia che colpi energetici ah io non ne uso a me mi servono colpi pesanti qua ci stanno un botto pesanti ma si per terra tipo vedi abbiamo tutti quanti l'armatura a gucci ma i golpi ma i golpi servono pure pesanti hanno loot sta zona l'anello è piuttosto lontano l'anello ma è l'anello l'anello qui ci sono munizioni energetiche c'era io energetiche te le ho pingate eh fra sto tra vabbè io ho la ulti raga eh dove sta il vault eh non c'è più neanche uno vabbè ma vabbè ma ok aspetta aspetta qui c'è il vault sto ubicato ah infatti in realtà mi farebbe comodo siamo noi contro altri raga ah 1v1 si si ah andiamo in safe dai non facciamoci chiudere no raga ma neanche ci andiamo a porti l'anello si muove siamo in spera di armature si si ma infatti io 9 9 sceltine e 4 battery io ho 3 battery 12 mini io ho 3 battery 10 mini 6 medici come what avete nade no no non ne ho ho 6 assist 4 io io ho 3 prendete quel drop chissà cosa ci sarà dillo che vuoi il massive dai si si hai la zippy si 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 manda solo il cargobot ma prendi prendi l'hanno aperto raga stanno qua loro ok raga io ho l'armatura quella che mi resta in caso muoio quindi in caso la smock sappiamo come usarla hanno aperto l'air drop ok ho levato la wing mi hanno preso il pompa ho lasciato 5 colpi pesanti speriamo che non hanno il massive raga chi ha cattelato la granata no 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 allora dietro c'è gente raga ecco me non hai dato sopra arrivo arrivo curati guappo lautati io sono morto ovviamente raga sono morto cioè raga sono tutte e tre da me rotto uno no 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 uno vio uno vio uno vio bravissimi l'abbiamo rotti vedete se s*****o in due perché a me mi hanno ucciso il tre ma poi mi hanno pusciuto in c*****o i vesti mi hanno spaccato l'avevo rotto quel piscipare fortuna vabbè dai io mi sono fatta chiedere l'ultimo quindi a posto io mi sono fatta chiedere l'ultimo po'